Si è tenuto attraverso modalità telematiche il rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Vallo della Lucania. Dopo tre anni l'avvocato Alberico Sorrentino lascia la guida della sezione vallese. Gli incarichi sono protempore, le idee restano, dichiara Sorrentino. Il collega Scotti rappresenterà al meglio la sezione, ad ogni livello, soprattutto in questo momento storico, cruciale per il Tribunale di Vallo della Lucania. A comporre la squadra del presidente Scotti, l'avvocato Domenico Sica alla vicepresidenza, tesoriere l'avvocato Elena Parrilli e segretario l'avvocato Enrico Ogliaruso. Altri membri del direttivo sono Mariangela Agresti, Danilo Tomeo, Armando Malzone, Giuseppe Di Vietri, Marcella Forte, Andrea Casella, Gianluca Oricchio e Antonella Palladino. Collegio dei Probiviri per gli avvocati Luigi Guglielmotti, Luca Lipiani, Giuseppe D'Apolito e Alberico Sorrentino, designato alla carica di consigliere nazionale Aiga per la sezione vallese, l'avvocato Ubaldo Serra. Un'enorme soddisfazione e l'orgoglio di portare avanti un progetto condiviso sono le prime parole del neopresidente. Un ringraziamento al presidente uscente, collega e amico fraterno per la dedizione e l'impegno profuso in questi anni. Un passaggio di consegne che testimonia come in Aiga ci sia spazio per tutti. Ora è il momento di lottare tutti insieme per difendere il nostro presidio di giustizia. Subito un impegno importante per l'avvocato Scotti, visto l'incontro con la presidente della Corte d'Appello, Iside Russo, fissato per mercoledì 17. Saremo protagonisti di questa fase storica e ci auguriamo che la magistratura faccia la sua parte per rispondere alla domanda di giustizia, conclude il presidente neoeletto dell'Aiga.